Allora, questo è il mio terzo video e ci rivediamo. A proposito, avete ricordato, ma ci sono i zombie, anche se li fanno male, ti dite in vita la cosa importante. Costruite, fate nuove cose, fate... createmi dei cani così, dei lupi nel senso, poi andate, volate, costruite le case, fate una cosa sulle nuvole, anche se i nubi non si possono toccare, non si possono anche uccidere, si distrugge e acchiappare così, è giusto trele lì. E poi hanno fatto bene trele lì, perché le nubi non sono cattive. A proposito, ricordate, dovete costruire, 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 finché non vi struite, continuate a costruire. E quindi, la prossima puntata, ci vediamo, ciao!